E che praticamente danneggia tutte le continuazioni, al di là di tutti i provvedimenti che uno va a prendere. Viene scoraggiato dalle possibilità della complessità, dalla burocrazia, dei finanziamenti. Quando si ha un finanziamento è che praticamente si mettono una serie di cose, di risposte che diventa difficile darle lungo un linguaggio che fa paura. Quindi che cosa si chiede? Si chiede le attenzioni su queste aree interne, di considerarle diversamente dell'area della piana del Stelz e quelle più sviluppate in modo che uno può partecipare e si può diventare un inseritore anche su questa realtà. Andando a valorizzare quello che noi abbiamo, noi abbiamo valorizzato il Postiglione di Fragolini che è diventata una realtà a me, che è un'azienda di cui il Postiglione ha fatto. Abbiamo valorizzato il figlio, perché è un ragazzo che ha creduto tanti anni fa con il professore Pasani che diceva, noi intenevamo che l'area doveva essere destinata alla coltivazione dei vigli e che diceva, oggi questo ragazzo ci ha creduto. Ci sono persone che stanno valorizzando il facciolo di Gallegra, sia pure impogliati dalla situazione di controllo. Abbiamo visto che è una grande certezza, una grande realtà di cui va sostenuta. Ci sono le aziende che bisogna fare un casificio, intendo fare, io perché prima ho parlato con Pasquale Stanzioni, un casificio comunale dove praticamente i nostri allevatori hanno la possibilità di portare il latte, non perché il latte che adesso noi diamo, chi lo viene a prelevare poi li paga dopo otto mesi mentre lui deve pagare dopo un mese oppure appena che gli scarico la mancina o tutto quello che serve per alimentare gli animali e quindi hanno delle difficoltà. Quindi avere la possibilità che ci sia un casificio comunale dove tutti quelli che oggi hanno un'azienda di allevamento, che sono sopravvissuti a quelle che sono state le mille difficoltà, hanno la possibilità e la certezza di poter accedere e dire pure i loro figli di seguire su quella strada dove i padri hanno tracciato, che poi sono anche figli di altre, è la terza generazione che si dovrebbe rinnovare. Quindi su tutto questo non lasciare perdere e non, come sentivo prima da lontano, se ho capito bene, evitare lo spopolamento dei piccoli centri. Fare in modo che il piccolo centri praticamente ci sia la voglia di poterlo fare, evitare che praticamente l'agricoltore, quel piccolo agricoltore, quel destato, pure per tradizioni, per cultura, quello che ci sono rimasti i nostri genitori, non coltiviamo più il terreno perché veniamo scoraggiati. Non coltivare il terreno significa disastro ambientale da tutte le parti perché poi quando succedono queste cose noi in Italia siamo abituati a cercare chi è il colpevole, ma il colpevole siamo noi, siamo noi che non siamo attenti a quello che c'è intorno a noi e siamo noi incapaci di non dare risposte. Ci sono ambientalisti in cui praticamente pensano che soltanto e tanto dicendo no proteggono l'ambiente. L'ambiente va protetto per quelle che sono le caratteristiche, per quelle che sono le loro... è la vita normale di tutto questo. Se noi non facciamo pulire i fiumi, se noi non possiamo far pulire lì, non miglioriamo i terreni, non coltiviamo i terreni, c'è l'abbandono, ci sono gli incendi, gli incendi perché avvengono? Avvengono perché la gente si scoraggia, non li coltiva più, non ha la possibilità nemmeno economica di voglielo fare, tutto questo. Che cosa voglio dire con questo? Non è un'amantere, non è un'accusa a nessuno, perché io mi credo che è il primo responsabile, visto che rappresenta una comunità degli errori che vengono fatti. Dobbiamo prendere con semplorezze che questi territori hanno la possibilità di essere una ricchezza, un'economia, una forte, una tradizione, tutto quello che c'è di italiano. Noi stiamo distruggendo il popolo italiano. Già non facciamo fitte, per cui tra qualche anno non ci sono nemmeno più italiani. Abbiamo questa grande voglia... Non siamo orgogliosamente italiani perché siamo capaci di distruggere quello che hanno fatto gli altri prima di noi. Quando la politica si venda, tutti i costi deve distruggere qualcosa di positivo. Dobbiamo cambiare passi, dobbiamo fare cose diverse. E io sono convinto che con i tre giorni che ci siamo stati qua, la voglio fare a te perché vedo Maria Teresa che mi guarda, in questi tre giorni che siamo stati qui, che abbiamo parlato delle future generazioni, abbiamo parlato delle infrastrutture che ieri abbiamo finalmente messo sul tavolo una richiesta, caro Franco Alfieri, di una opera che io ho sempre sostenuto, quella che dalla grotta di Castelcidile vanno le due fondovali, si vanno a collocare perché è il momento di sviluppo del territorio e non mandarsi di chi praticamente non fa arrivare un finanziamento sul territorio, ma di portare un finanziamento. Oggi parliamo di un'agricoltura, di misure diverse, che vanno a salvaguardare gli agricoltori di questo territorio e quindi creando l'agricoltura, potenziando, migliorando l'agricoltura, si fa turismo. Turismo come si fa nelle nostre realtà? Affinché dovete costringersi, noi sindaci, che siamo piccoli sindaci di piccoli paesi, un po' preso e tusetti, di metterci insieme, di presentare progetti unici di valorizzazione e di crescere di un intero territorio, non di un singolo paese, perché solo così si può crescere, solo così si possono avere idee di fare questo. I fondi europei non fanno consumanti, usati, come qualcuno dice, caro Nicola, i fondi europei vanno usati a migliorare, a portare il passo, il sud, il peridione, le nostre realtà a passo con gli altri. Ce la possiamo fare, purché siamo seri, purché siamo convinti di voler dare un forte contributo al domani e da oggi possiamo iniziare con la competenza che avete, con la forza, con la voglia, con la conoscenza del territorio, possiamo dare quelle risposte che la gente aspetta. Io farò di questo, io avendo un'età avanzata per fare il sindaco, non ho interesse di essere di ereto, ho interesse a fare le cose giuste per le future generazioni. Oggi possono anche essere viste in una maniera sbagliata, ma se sono convinto, se le persone che sono a fianco a me, autorevoli, persone che hanno competenza specifica, anche i denti, ingegneri o gli addicenti, e sono convinte e mi danno quest'idea, io la porto avanti, così come la via delle Calabria, con l'architetto Esposito, che ci siamo conosciuti, diciamo, lungo il percorso, è una cosa, un'idea di sviluppo del nostro territorio. Io la sostegno, la sosterrò, perché ritengo che i nostri territori ce la possono ancora fare, sono salvate il nostro territorio, salvate i nostri polpi, con l'appello che faccio io, salvate anche l'economia della nostra provincia, della nostra regione. Questo vogliono essere i tre giorni di Postiglione, con il progetto, le richieste, e le risposte che dovremmo dare da qui a poco. Io sono sicuro, con Maria Teresa, che ringrazio Maria, tutti quelli che hanno dato vita a questi convegni, che hanno organizzato in questi giorni, che Postiglione, in questi tre giorni, al di là dell'educazione climatica, della poca presenza di degustazione, è il fatto che ha discusso e attenzionato a livello provinciale, regionale, nazionale, europeo, perché ci sono stati anche parlamentari europei, di quelle che sono le necessità dei nostri territori. Questo vogliamo, questo voglio, questo andrò fino in conto, perché ritengo che sia la ricerca per salvaguardare la nostra realtà. Questo è il mio mandato, e questo farò con l'aiuto di tutti quanti voi che mi stai da fianco e che meritate di essere qui e meritate che questo popolo, al di là dei colori politici, vi sostenga, fino in fondo, perché avete iniziato un percorso di conoscenza, di presenza e di risoluzione dei problemi di questo territorio e quindi andare a sostituire persone che in questo momento ci stanno rappresentando e conoscono da un grande errore, perché anche questi in Italia avrai a sostituire tutte le persone che fanno qua a volte. Io credo, voglio stare a vostro fianco, perché rappresento queste comunità, lo farò fino in fondo per i beni del mio Paese, ma per gli alcuni, e per quanto riguarda le future generazioni, e con voi voglio essere vi a fianco per risolvere questi miei problemi. Questo è l'obiettivo dei convegni e dei tre giorni che noi abbiamo avuto l'onore di avervi qui a Costiglione di confrontarci. Questo è il mio appello e questo è quello che vi invito. Grazie, scusate, non lo sa, perché è stato tre giorni e qui con noi è possibile questa unifersionale del Stato Cene d'Arcicampagna grazie al Presidente della provincia, Franco Alfieri, con l'iniziativa del Consigliere Sorrentino chiamata Le Atte. Dopo entreremo nel dettaglio, ma anche grazie alla presenza. Quindi io vi chiedo di fare un applauso, perché ci sono degli angeli custori che hanno fatto una scelta di vita, oltre che professionale, che è il soccorso nazionale al primo spiroologico della regione Campania. Grazie. Dopo parleremo e vi illustrerò tutti quanti i relatori a mano a mano che ve li presento. Nicola Caputo, Assessore dell'anticoltura della regione Campania. Nicola, di nuovo qui a Pustiglione tu sei sempre presente, molto attivo per la comunità degli Alburbi, per i territori e per le aree interne. So che questa settimana, come tutte le settimane, da Bruxelles a Napoli, da Napoli alle aree interne in Tuttore di Gisalermo hai fatto una full image con tante novità. ecco, qual è il futuro cosa dobbiamo aspettarci a qui a breve per i voti, per l'anticoltura e per i piccoli imprenditori, per le piccole e per gli imprenditori? Intanto, grazie, scusate, mi chiediamo se abbiamo chiesto di intervenire per prima, ma ho ancora punte d'arte da fare oggi nonostante sia domenica. Quindi ringrazio anche a Franco Alfieri per avermi concesso questa possibilità del suo intervento. intanto, complimenti a Carmine per le iniziative che si sta facendo in questo territorio. È un bello school che io oggi avevo serie di difficoltà a venire, ma pensando alle cose che mi sarebbero state che vado a portare a costo, ma vado a salutare Carmine e gli amici di Postiglione perché è questa una comunità per l'altro che è iniziata a conoscere abbastanza bene e questa è un'iniziativa di grande importanza per la valorizzazione delle aree interne. Noi dobbiamo darci una mission per le nostre aree interne. Questo è un'area particolarmente evocata che dicevo terminiamoci a fare una foto perché si fanno un lato così così bello. C'è ovviamente ci sono ovviamente tante questioni prima su tutta la questione dello spopolamento che è uno dei problemi più importanti che attraggliano un po' tutte le aree interne. Da questa questione noi non possiamo venire fuori semplicemente parlando o semplicemente facendo delle azioni sport. c'è la necessità di un'azione strategica per le aree interne e penso che dobbiamo iniziare a pensare anche a un dialogo diverso con l'Unione Europea per immaginare una sorta di accordo di programma per queste aree. Noi però da nostra parte dobbiamo fare tutto quanto necessario. Innanzitutto non fare maggiormente i sistemi le imprese non fare maggiormente i sistemi e le amministrazioni comunali devono fare maggiormente il sistema e dobbiamo darci una mission dobbiamo essere attrattivi per qualche cosa l'iniziativa sull'espetto è una modalità per rappresentare la violenza di un territorio cioè trasformare una difficoltà se ci pensate ma di difficoltà avere con i tempi che corrono diciamo una tale consistenza dell'assi di aria interna io fino a qui non ho passato una posizione per arrivare per arrivare questa regione campana anche con l'assessorato al turismo cercando di affiancare ai nostri assets tradizionali del settore anche quella che può essere la potenzialità del settore turistico legato alle aree interne alle produzioni agroalimentari di qualità facendo sì che le singole aziende potessero divenire insieme all'attività ricettina alla ristorazione alle località belle come Posticlione un unico hub per essere attrattivo per gli operatori per i Pisa per fare questo ovviamente c'è la necessità di convincerci intanto che dobbiamo partire dalle difficoltà che abbiamo ma non dobbiamo solare sempre lamentarci delle difficoltà che abbiamo i progetti talvolta nascono anche da una riflessione sulle sulle problematiche che abbiamo e anche queste tre giorni fatte qui a Posticlione in cui sono state esaminate un po' tutte le varie questioni da cui può determinarsi un sviluppo del territorio può essere come dire una prima goccia che può determinare un cambio di passo io mi assicuro come assessorato all'agricoltura ma come regione campale la massima vicinanza rispetto alle problematiche di queste aree anche come settore agrile stiamo cercando di mettere in campo iniziative di massima vicinanza anche per gli enti locali devo dire che il presidente di Luca ha più volte anche dimostrato questa volontà di essere vicino a queste aree a noi tocca come dire mettere in campo una strategia ma questa strategia la dobbiamo determinare insieme e io ricordo era la fine del mio precedente mio mandato di parlamentare europeo proposi al presidente proposi al presidente De Luca una sorta di accordo di programma europeo come è stato fatto in alcune altre regioni europee e il presidente De Luca aveva individuato due temi in particolare uno era l'acqua che è quindi l'obusito che saluto molto attento a questa domanda l'altro era proprio delle aree di teme poi le vicissi tutti diciamo un po' contingenti il covid ha determinato diciamo un rallentamento di questa di questa direzione io penso che dobbiamo ripartire da quella concettualità e perché ci stiamo avvicinando già alla determinazione del nuovo come dire la nuova programmazione 27 27 24 e queste cose si fanno qualche anno prima dalla partenza della della programmazione secondo me la vero noto la vera novità che possiamo mettere in campo è esattamente questa qui iniziare a dare alle nostre aree interne diciamo una mission in modo che possano davvero essere attrattive e a non solo per i turisti ma anche per diciamo dagli stessi il bonus di un insediamento non basta diciamo vasto iniziative del genere c'è bisogno diciamo di un'attività più strutturata nella quale diciamo dobbiamo farci la io vi chiedo scusa sono venuto perché vengo a questo comune diciamo diciamo ho un modo di conoscere tanti di voi di come dire accompagnarmi anche in serate diciamo coreattiche e mi fa molto piacere essere qui anche il mio amico Carmine Carmine Cegna mi fa dare in bocca a luca a questa comunità accoglierà anche l'occasione per fare a tutti voi le vostre famiglie di Buon Natale e di Buon Anno ma vi chiedo scusa devo davvero scappare perché mi aspettava un appuntamento e ci tengo tanto a Baia da Vincere dall'altra parte della campagna alle ore condizioni grazie grazie davvero di buone e scusate che non sono abituato a intervenire e andare via ma apprezzate davvero il fatto che abbiamo impegnato quattro ore per salutare tutti quanti voi e sono davvero felice di averlo fatto grazie grazie a voi a voi che mi chiederemo presto a Postiglione e ve lo dicevo prima questo appuntamento questi appuntamenti sono questi eventi sono patrocinati dall'ente provincia di Salerno che ha promosso con il decalogo per la democrazia che voi vedete alle vostre spalle nella mostra con le opere d'arte del pittore spagnolo Giuseppe Garzio Ortega la riuscione dell'arte della cultura e dell'arte in tutta la provincia di Salerno un filo russo che poi affronteremo con il consigliere Sorrentino che unisce la provincia di Salerno la comunità di San Giovanni a filo con tutta Italia con Matera e con l'Europa con la Spagna la terra del pittore Giuseppe Garzio Ortega io dopo termine il convegno vi chiedo di fermarvi a vedere le opere del pittore Giuseppe Garzio Ortega Franco Alfieri presidente della provincia di Salerno presidente Alfieri la provincia di Salerno non solo attraverso chiamata alleati promuove tutti i giorni azioni importanti per lo sviluppo del territorio della provincia di Salerno di Garni dei 158 comuni della provincia di Salerno ma anche una risposta a tutti i bisogni alle esigenze vere e proprie di cui lei prima da sindaco e ora da presidente della provincia conosce in particolar modo delle aree interne dei comuni delle aree interne buongiorno a tutti grazie grazie a Carmine per questa occasione la relazione di Carmine è stato un fiume in piena quindi i miei spunti sarebbero tantissimi ma io vi attarderò ad alcuni flash avendo io un'esperienza di amministratore locale da 40 anni e oggi con una visione generale della provincia di Salerno posso dare qualche spunto qualche suggerimento lo sforzo che si sta facendo in questi tre giorni a postiglione ovviamente lamentando tante cose che non vanno da facilità socio-economica ma allo stesso tempo partendo però dalle risorse perché l'elenco delle lamentele ormai lo sentiamo e l'abbiamo sentito da tempo dire sempre le stesse cose è inutile perché ce le stiamo dicendo da tanto tempo perché poi sappiamo pure che cosa bisogna fare c'è un modello ideale che noi nel mezzo giorno non riusciamo a realizzare risorse io credo anche in periodo alle nostre in altre parti d'Italia per una questione culturale dove c'è disagio economico e sociale c'è prima disagio culturale ed è inutile che ce la vogliamo pigliare solo con la politica la politica ha un pezzo di responsabilità la responsabilità è connettiva ed è generale quindi noi lo sforzo che dobbiamo fare dobbiamo organizzare le risorse che abbiamo non ripicando le cose che stiamo facendo sempre perché i fondi sono sempre gli stessi le azioni sono sempre le stesse e che cosa avviene le altre si spopolano e vi posso assicurare io oggi sono sindaco di Capaccio Pestum che uno può pensare che la corazzata parca archeologico zootecnia 30 km di rio anche da noi c'è sofferenza anche da noi c'è l'esigenza di migliorare la qualità della vita c'è l'esigenza di migliorare i servizi perché poi Carmine io lo sento da sempre io sono una voce che va contro corrente e contro mano quando tutti quanti insomma parliamo che dobbiamo migliorare i paesi la viabilità l'acqua per i turisti no noi dobbiamo creare la condizione perché si migliori la vita dei residenti e quando c'è una qualità della vita in un paese buono accettabile c'è anche una precondizione per i turisti e vengono le cose che dobbiamo fare secondo me perché poi troppe gli altri dobbiamo avere delle idee chiare poche concrete dobbiamo andare avanti insieme e non dobbiamo aspettare che esce il bando noi partecipiamo a qualsiasi bando dovremmo avere la forza di cambiare l'offerta perché quando noi mi dispiace che il ricordo è andato via io ho avuto da consigliere non che assessore e lo dicevo quando ero delegato all'agricoltura quando tu poni in essere le reazioni per i primi insediamenti in agricoltura e Vito lo sa bene e arrivi fino al 90% delle agevolazioni per i primi insediamenti in agricoltura non c'è nessun giovane che vuole fare l'agricoltura è una tentazione per avere quel 90% che alla fine cercano pure di far restare qualcosa allora noi dobbiamo finanziare chi ha la passione chi ha la voglia di fare le cose e nel reale in tempo dove l'agricoltura non è vero che c'è una questione solo i cinghiali sono una cosa c'è il problema e lo stanno anche risolvendo perché con il commissario nazionale Caputo insomma si sta mettendo in atto il completamento della vitiera anche delle gabbie le gabbie che potranno essere installate quindi lasciamo stare i cinghiali questo è un alibi che a me non piace la questione dell'agricoltura va integrata con il turismo perché da noi è inutile non si può vivere e quando finiranno queste generazioni che sono anche di una certa età noi avremo a che fare con l'abbandono totale e quindi bisogna integrare l'agricoltura con il turismo ma non pensando come sempre che noi dobbiamo portare i turisti che sono a mare è un altro turismo e quindi bisogna lavorare sulla rigenerazione urbana sull'esperienza rigenerazione urbana significa recuperare i furbi significa pretendere dallo Stato trattamenti fiscali e tributati che devono essere diversi rispetto a chi ha un genere alimentare a postiglione o a piagini non può pagare le stesse tasse che si pagano a Salerno o a Capaccio e quindi noi dobbiamo creare delle condizioni diverse per chi vuole testare per chi vuole investire senza fidare tentazione perché se noi continuiamo a dare soldi a insomma a pioggia la gente quando facendo il finis di vendita di colpura il 90% di copro si pigliavano un punto di potere e non dico che stiglie sono cose che sono così e poi contavano vicino un calentare i cincani che passavano per cancellarsi allora sosteniamo le aziende che già ci sono sosteniamo le aziende che già vanno quella hanno una storia hanno una tradizione miglioriamo le produzioni le qualità cerchiamo di farle vendere in un mercato che sia interno che insomma i prodotti si vendono qua perché c'è bisogno di stimolare per turismo esperienziale naturalistico oggi abbiamo una montagna come gli alboni altruve è una ricchezza e quindi allora il percorso che si farà con ci sono tutta una serie di cose che purtroppo non possiamo portare tutti avanti contemporaneamente bisogna agire per priorità bisogna fare le cose che immediatamente possono dare un risultato e poi avere un orizzonte avanti molto ampio per fare tutto quello che è possibile e il segreto è quello di stare insieme certo tu puoi fare pure in un paese io dicevo quando ero sindaco di Agropoli che è per i 10 anni con lo sviluppo di così ma noi non è che facciamo una suite su una nave che affonda la nave è il territorio dove appartisce tutto il territorio e come finisce mettendosi insieme senza gelosie senza compatibilità avendo un progetto di sviluppo territoriale che mette insieme tutti i risorsi e quindi come provincia di Salerno ovviamente noi io sono presidente da un anno e non uso l'alubb che è stata una riforma che non ci si è solito il bene comune non è legge contraria lo sa bene e lo dico quindi la provincia c'è la provincia per quello che può fare per armonizzare risorse per mettere insieme per avere dei progetti per lavorare su temi importanti io Carmine mi conosci ci sono però dobbiamo andare avanti con motivi precisi prioritarie le cose si possono fare vedete le cose io sono testimone che le cose si possono fare però vedete un sindaco che ha un'idea ha un progetto di sviluppo se non è seguito dalla comunità non è seguito dalle comunità non si va da nessuna parte perché la comunità deve partecipare deve avere un'attenzione morale che ci tiene a fare le cose che segue il progetto perché poi è confuso non è che noi possiamo legare per forza le persone le persone ci devono delire devono amare il proprio territorio e si sa da noi è tutto più inzalita è tutto più sacrificato è tutto più difficile ma questo non si che non si può riuscire e noi dobbiamo avere come sempre le generazioni precedenti che sono partite dal niente avevano solo le mani e hanno costruito casa hanno fatto studiare i figli oggi tutti quanti noi pensiamo al futuro come una minaccia non con speranza ma noi abbiamo in parco la speranza non è solo una virtù cristiana la speranza siamo a noi quando non siamo indifferenti quando mettiamo coraggio quando il domenica mattina il 17 dicembre siamo qua a parlare a lavorare ma non basta la speranza siamo noi quando ci mettiamo insieme e facciamo realizzare i soldi quando aiutiamo chi ha bisogno quando come amministratori abbiamo le condizioni per le imprese quando riusciamo a rivendicare nei confronti della politica di fare le cose che ci servono è inutile a volte fare nuove costruzioni c'è bisogno di recuperare quello che abbiamo abbiamo tanti contenitori tanti fabbricati abbandonati su questo dobbiamo lavorare io sono convinto che ce la possiamo fare anche ce la dobbiamo fare vedete anche le aritene sono diventate una strategia nazionale perché è un problema comune dal nord al sud ed è il vero problema perché nel momento in cui un paese perde la popolazione non la recupera più e più perdiamo la popolazione come zona periferia più ci tolgono i servizi ci chiudono gli ospedali si andavano in posto si andavano in carabinia se ne vanno tutti quindi non ci possiamo consentire questa distrazione abbiamo una grande responsabilità sapendo che non è che abbiamo fatto tutto bene abbiamo utilizzato tutte le risorse e siamo in questa condizione la speranza è proprio questa abbiamo fatto poco abbiamo fatto male quindi dinanzi a noi possiamo fare tantissimo e possiamo invertire questa tendenza questo è l'augurio per il nostro territorio soprattutto l'augurio per il Natale in salute serenità soprattutto che ci sia la pace che mentre noi parliamo di queste cose c'è gente che sotto le pompe bambini nel 2023 parliamo di un'umanità che ha perso proprio il senso ha perso proprio la bussola però noi non siamo responsabili del mondo però possiamo cambiare il nostro piccolo mondo dove viviamo dove lo viviamo e noi abbiamo le responsabilità buona domenica a tutti grazie Presidente Aschieri e il Presidente della provincia mi ha dato l'assist per il prossimo relatore dottore Francesco 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 qui alla mia destra Francesco orse ad essere un mio caro amico con la quale da anni collaboriamo in prima linea per le lotte non posso dire Francesco Franco mi permetti di dire una cosa a me molto cara per le lotte ambientali contro le industrie inquinanti nell'area di stradere talernitano Francesco è un giovane imprenditore un imprenditore napoletano un padre di famiglia insieme alla sua famiglia è titolare dell'azienda porta avanti figlio di terza generazione di industriali conservieri ed è il proprietario dell'amministratore delegato dell'azienda Icab La Fiammante che ha sede produttiva nel comune di Puccino nella zona del comune di Puccino e ha sede amministrativa a Palma Campania ebbene a San De Bastiano ebbene l'azienda La Fiammante ha un indotto occupazionale complessivo di 2.500 padri mammi famiglia e ragazzi tanti dipendenti dell'azienda sono proprio qui di Puccino e la presenza di Francesco non è stata scelta a caso oggi all'interno di questo contesto così importante perché la Fiammante in prima linea Francesco non solo porta avanti una battaglia tutela del territorio in cui opera della Valle del Sene il Sanacro degli Alpugni affinché questi territori restino territori incontaminati dove poter lavorare produrre prodotti di eccellenza agroalimentare deve sapere Francesco che Puccino è una piccola realtà del mezzogiorno che conta tantissime piccole aziende agroalimentari e agroturistiche che fanno una produzione locale proprio per i propri ristoranti per i propri locali importantissima agroalimentare di eccellenza e biologica e quindi Francesco Franzese è un esempio di l'industria l'Igab la Fiammante di una filiera etica di una filiera corta di una filiera certificata di una filiera sostenibile penso di aver introdotto il nostro relatore Francesco Franzese buongiorno buongiorno a tutti molto grazie per il prodotto sono tante grazie comunque per il video ringrazio il sindaco io sono qua diciamo in questa zona sono ucciso come nello stabilimento da due di vita lì gli ultimi anni l'agenda fa importantissimi investimenti diciamo sia investimenti diciamo per ampliare la vita soltanto in un'azienda tra trasportatori indipendenti diretti abbiamo uscito a 400 unità più abbiamo circa 1000 hectare di alzio di pomodoro suddiviso in 5 regioni dove stranamente differenza un po' del mondo non è vero la prima regione per fornitura di materiale è proprio la campagna che per noi resta diciamo il primo mercato come qualcuno prima diceva l'onorevole bisogna prima consumare quello che si produce diciamo nel proprio paese nel proprio regione e poi andare in un'azienda quindi noi dobbiamo essere consumatori del nostro territorio per lasciare ricchezza nel nostro territorio vi collego subito al discorso che faceva il presidente Affieti perché Postiglione ha tante eccellenze tra cui ha diciamo legumi legumi che sono famosissimi qua da noi però sono poco conosciuti ha degli oli eccezionali qua tutto diciamo la zona diciamo questa qui fino a Cino Polla ha dei oli con una città bassissima e secondo me la soluzione sta proprio cioè partire da quello partire da un da un'agricoltura che ti rende sostenibile perché sappiamo tutti che produrre il nitro d'olio o il nitro di fagioli oggi non porta reddito non porta reddito quindi chi produce diciamo questa è un'agricoltura che costretta a fare altri lavori per appunto portare avanti la propria famiglia e quindi questo è un lavoro che si va portando per passione perché è stato tramandato da dei figli e perché ognuno ha un piccolo terreno ed è un peccato abbandonato ma sciallosi la svolta sta proprio nel rendere sostenibile e come si può fare si può fare valorizzando questi prodotti ci sono tanti piccoli imprenditori che devono dirsi c'è un po' di una cabina di lituria che porti avanti appunto questi prodotti e faccia uscire anche delle doppie delle IGP secondo me poi sono tutte le caratteristiche per filare una doppia in modo che la bottiglia di olio invece tende a 7 euro si deve a 15 euro per fare in Toscana i fagioli si possono triclicare i prezzi come si vengono fatti a poco le dentizie in Umbria quindi ovviamente da soli ognuno si sente perso però bisogna avere la capacità di creare una struttura che appunto valorizzi questi prodotti e poi diffonda le migliori cucine italiane attraverso delle scelte far iniziare a conoscere diciamo queste eccellenze la regione diciamo e lo sapete gli ultimi anni hanno dato un bel po' di finanziamenti ovviamente come diceva il presidente molti vengono i finanziamenti diciamo più come un premio che come un punto di partenza per sviluppare allora il problema qui è che per chi vuole lavorare effettivamente lavorare questi finanziamenti sono un po' difficili diciamo da raggiungere quindi che fa vanno avanti i gruppi con l'idea che imparano le leggi imparano diciamo come accedere a questi finanziamenti fanno l'operazione diciamo di incasso e poi spariscono quindi anche in questo secondo me lo Stato dovrebbe sia la regione lo Stato mettere appunto dei tutor che possano aiutare i piccolissimi imprenditori ad arrivare a questi contributi ovviamente dei contributi devono sentire lo strutto non diciamo a compiare le tasche dell'imprenditore e poi abbandonare il tutto poi partendo un po' diciamo da queste attività ovviamente collegare il turismo perché oggi il turismo come diceva la presenza appunto non è quello che solo vuole andare in costiero vuole andare al mare c'è chi vuole fare anche un'esperienza condadina chi vuole fare un pranzo condadino insieme diciamo al produttore del campagna non già levare il pomeriggio o pasta maggiore questo è il sottotitore dei percorsi ovviamente devono essere fatti a step questo potrebbe portare un sviluppo oltre all'economia diciamo del produttore percorsi del paese immaginate quanti si potrebbero aprire in queste zone anche per chi diciamo ama la montagna quindi potrebbe ovviamente portare avanti diciamo un percorso un percorso di crescita che non fa che ci vuole del tempo però la cosa fondamentale secondo me è quello che vuole creare una cabina di regia disinteressata in caso di combattivo quello del sviluppo lurale e quello del sviluppo turistico non vi voglio preparare che ho anche altri promotimenti per fare gli auguri a tutti buon Natale ringrazio anche diciamo costiglione oltre ad essere un bellissimo paese ma lei mi sta appartenendo d'accordo che sono molti costiglioni che lavorano nella mia azienda e aiutano diciamo la azienda a crescere perché ovviamente noi da sovi non andiamo da nessuna parte quindi ringraziando particolare ai dipendenti della fermante che appunto sono anche presenti qua grazie buona giornata grazie Francesco 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 il sindaco mi ha riferito pochi istanti fa ha detto blocca il dottore Francesco perché a breve faremo un incontro al comune con gli imprenditori del settore agroalimentare e agricolo del comune di Postiglione per creare la campina di regia insomma quel comune che vedrà stavo quindi come vedi il sindaco c'è grazie Francesco e il dottore Francesco mi ha dato l'input per il prossimo relatore Vito Cusillo presidente di Cordiretti Piano del Sere Vito mio amico Vito Cusillo Vito tu che hai un'esperienza importante da anni con il Cordiretti non solo nel mondo agricolo perché dovete sapere che Vito Cusillo è il presidente del consorzio della rucola IGP che è da Piano del Sere un riconoscimento importantissimo il dottore Francesco ha raggiunto un'idea importante una proposta importante arrivata da questo tavolo stamattina l'idea di creare un marchio dopo IGP delle produzioni locali di Postiglione ecco in che modo bisogna lavorare grazie a te per avermi invitato grazie al sindaco che è sempre impegnato che è un motore di questa manifestazione io però ho un paio di considerazioni in generale per poi arrivare a quello che mi è chiesto questo è un momento importante anche perché noi come agricoltori io prima di tutto io prima di tutto innanzitutto sono un imprenditore agricolo della Piano del Sere poi tutti gli incarichi che sono politici amministrati ma ho rappresentato e rappresento la Goldiretti in questi anni ho rappresentato e rappresento il consorzio della della lupola IGP che ho creato ma la cosa importante è che la prima riflessione che voglio fare è una riflessione secondo me molto positiva cioè noi negli ultimi cinque anni abbiamo i due grossi problemi la pandemia da un lato e la guerra da un lato questi due problemi hanno messo in evidenza che cosa l'importanza strategica della ricorduna quando stavamo tutti quanti chiusi in cazza il primo atto agricolo che abbiamo compiuto ognuno di noi ma soprattutto il consumatore è quello di mettersi ma era l'elemento principale allora chiusa le parti diciamo legate al nostro territorio chiusa la parte della frontiera chiusa tutta l'Europa oggi quell'altro particolo di allora ha portato a mettere in evidenza l'importanza dell'agricoltura e dell'agricoltura come momento legato all'autosufficienza alimentare l'autosufficienza alimentare paradossalmente è uno dei concetti che andava di moda fino agli anni 40 fino agli anni 50 oggi è diventato principale è diventato l'elemento distintivo di questo prezzo quindi se da un lato noi con la pandemia abbiamo messo in evidenza il primo atto agricolo è quello di mettersi a tavola quindi i protagonisti assoluti di questo percorso erano gli altri contori sull'agricoltore immediatamente dopo con la guerra che cosa abbiamo messo in evidenza con la guerra si è messo in evidenza l'elemento centrale della questione degli acquisti cioè noi abbiamo avuto un problema legato a una guerra al centro dell'Europa un aumento dei costi di produzione spaventosi un aumento dei costi energetici quindi ci siamo interrogati e ci dobbiamo ancora interrogare se quello che abbiamo fatto negli ultimi 15 anni in ultimi 20 anni era la cosa giusta a partire dall'Europa che poi sembra strano ma tutte le politiche territoriali hanno comunque una genesi immaginate che l'Europa con dei devolamenti comunitari che sono ancora in vigore pagavano il sezzato cioè pagavano agli agricoltori ai soggetti soprattutto del nord Europa la possibilità di non continuare e venivano pagare questa cosa ha generato negli anni un processo agricolo che è legato sostanzialmente per un processo della globalizzazione cioè la globalizzazione se voi ne leggete oggi è l'esatto contrario di quello che serviva ai territori di quello che serviva ai nostri territori perché che cosa ci diceva la globalizzazione che cosa diceva il consumatore della globalizzazione diceva tu devi acquistare il prodotto dove questo prodotto costa di nuova e allora tutto a questo ha generato che i costi di produzione la possibilità in questi territori soprattutto negli anni interna ma non solo negli anni interna la possibilità di fare un'agricoltura nemmunerativa perché poi noi in tutte le città in un piano come diceva anche Franco P ma se noi non generiamo valore economico se noi abbiamo valore sociale se noi generiamo soprattutto valore per le nostre famiglie come pretendiamo che i nostri giovani i nostri figli rimangono in un territorio allora per poter rimanere in questo territorio noi dobbiamo capire e analizzare i processi e le negatività e le negatività che abbiamo avuto negli ultimi anni per poter generare una serie di opportunità e allora come si fa a generare le opportunità in questo territorio probabilmente evidentemente tutto quello che è stato detto tutto quello che ha detto l'amministratore delegato dell'azienda che non mi ha antepare nella direzione giusta io ci ho provato come imprenditore articolo della quarta gamba io producendo l'uomo quattro anni fa ci siamo inventati il consorso di aruguristico vi posso dire con valori diversi con processi diversi che noi a un anno in mezzo da una certificazione abbiamo fatto 28 milioni di euro di valore della produzione però questo è un caso particolare andiamo in un settore che è specifico che è un settore che certamente non può essere messo in relazione a questa cosa quindi tutto l'aspetto dello spopolamento della demografia è un problema reale però noi che cosa possiamo e che cosa secondo me dobbiamo offrire ai giorni e dobbiamo una serie di cose che secondo me sono un elemento che ci chiede il consumatore che cosa chiede oggi il consumatore il consumatore chiede distintività quindi distintività di un territorio chiede tracciabilità e intracciabilità ma faceva una riflessione con il francio al piede potremmo noi siamo arrivati secondi in questa classifica mondiale ma voi immaginate quello che è successo negli ultimi 20 anni contro la mozzarella di Bufola Cappà cioè ogni 20 giorni c'è uno scandalo e questa cosa anche con tutti gli scandali quando una cosa è di qualità quando la qualità è così eccessa non c'è scandalo che tenga quindi per tornare a noi è veramente di avvio alle condizioni quindi il prodotto a marchio va bene va bene soprattutto perché noi nella distintività dei processi noi dobbiamo dirci una cosa guardate se noi chiediamo un giorno di produrre olio l'olio al di là della vendita locale chi è il soggetto che oggi compra in Italia il soggetto che soprattutto vende ai consumatori oggi l'85% della nostra produzione è commercializzata da Dagiio quindi il rapporto che noi dobbiamo creare qua dobbiamo essere bravi di mettere insieme il prodotto a marchio che è un valore economico è un valore sociale e soprattutto un valore che tu ti porti un territorio indietro chi è che è un'unica cittiva tu guardiamoci il caso però c'è bisogno di mettere in rete un processo noi abbiamo la DOF dell'olio d'oliva ma questa DOF ci interroghiamo perché l'abbiamo buttato su questa quarta gamma che è nata nel 1994 95 perché se io sono andato in America ho un problema non lo devo dire non lo devo dire non mi piace troppo la carne però mi mangio un po' tutto mi mangio tutto il ricordo ora sempre ho mangiato la carne ho difficoltà la pasta non si poteva mangiare la mattina con questi amici io andavo al supermercato a prendere qui la frutta e vedevo che la quarta gamma che cos'è la quarta gamma sostanzialmente erano i prodotti di tagliare quindi io compravo tre o quattro cose di angurie di pelone calda lupo e me ne andavo e vedevo che i consumatori cioè i soggetti andavano tutti verso quella che mi ha mandato 28 messaggi ho detto bene non si preoccupare mandare 28 messaggi perché ritengo che sia necessaria una compositività sul futuro grazie grazie sono un po' finito che si mette con diretti mia avversione è agricoltura ma anche turismo ma soprattutto archeologia un turismo legato all'archeologia perché tutti questi temi creano l'impianto economico oltre che il culturale nel territorio e questo aspetto contatto con il nostro architetto Luca Esposito referente del progetto strada regia delle calabre per l'associazione nazionale archioclub d'Italia grazie architetto e ben tornato qui a presto grazie 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 e approfittiamo nel frattempo che facciamo la presentazione che ho preparato per indussare un pochettino la nostra idea la nostra idea di di turismo e di promozione di questi territori allora io ci tengo però prima di tutto a ringraziare alcune persone prima di tutto il sindaco Carpine Cettamo la dottoressa Maria Teresa Conte e tutte le persone che di postiglione in diversi anni di studio e di ricerca mi hanno mi hanno aiutato in questo lavoro penso anche al dottor generoso concorso perché ci tengo a ringraziare perché non è scontato avere questa passione per il proprio territorio il sindaco è un vulcano una persona piena di passione diverse volte ci siamo anche scontrati no? e questo è un bene perché significa che ama il proprio territorio con passione noi abbiamo bisogno di passione per rilanciare questi territori io faccio parte di un'associazione si chiama Archeoplem d'Italia è un'associazione che si occupa di promozione dei piccoli territori promozione della cultura e dell'archeologia abbiamo pensato che in questi territori c'è un'occasione importantissima e l'occasione viene data da una storia da un racconto il racconto della strada reggia delle Calabrie in tanti che abitano questi territori non conoscono la storia di questa strada pensate era la strada più importante del sud Italia la strada che collegava la città di Capua all'epoca dei Romani la città più importante nel territorio campano con reggio Calabria una strada che ha 2200 anni di storia magari se riusciamo a far andare avanti la presentazione vi faccio vedere rapidamente che cos'è questa storia una storia che sta riscontrando tanto interesse a livello nazionale a livello anche europeo e vi spiego perché oggi come giustamente abbiamo ascoltato durante gli interventi delle persone che mi hanno preceduto oggi l'unica strategia per rafforzare per evitare che i giovani scappino siano costretti a scappare dalle aree interne del meridione è quella di fare rete ma fare una rete che sia legata non solo diciamo giustamente alla promozione del territorio del potenziale agroalimentare gastronomico delle bellezze naturali ma una rete che parte anche dallo sviluppo culturale dalla storia noi abbiamo una storia che è veramente molto affascinante pensate io sono stato contattato addirittura dal direttore dell'istituto nazionale di vulcanologia di Bologna voi direte che c'è postiglione conserva l'unico esempio di stazione di posta settecentesca ancora integra nelle sue forme alla stazione della duchessa la stazione di posta della duchessa si è fermato a metà ottocento Robert Mallet chi era Robert Mallet è diciamo uno dei padri uno dei pionieri della moderna sismologia della vulcanologia un ingegnere che si recò in questi posti a seguito del terremoto nel 1853 e scrisse diversi trattati da cui poi sono nati tutta una serie di volumi legati allo studio della sismologia sono stato contattato perché ricorreva i duecento anni dalla morte di questo vulcanologo e quindi stava venendo pubblicato un libro sull'ulcanologo ma da Bologna non sapevano dove fosse la taverna della duchessa menzionata negli scritti negli appunti di questo ingegnere quindi mi hanno contattato e le ho dovute indirizzate a questo luogo ecco quindi pensate abbiamo una storia così intensa così interessante così particolare che affascina che interessa e interessa non solo diciamo la popolazione locale regionale ma interessa a livello nazionale noi siamo riusciti a coinvolgere la televisione la RAI che ha fatto diversi servizi si sono fermati anche qui alla duchessa e per il 2024 abbiamo in programma qualcosa ancora di più importante a livello di documentari diciamo legati alla storia di questi territori e non solo ma anche quello che è legato alla la storia dell'enogastronomia dell'agricoltura e qui mi rifaccio al tema di questa tre giorni legata a questa interessante iniziativa che è stata portata al comune di Postiglione oggi le forme di turismo si stanno evolvendo molto rapidamente anche purtroppo grazie o a causa del covid oggi l'utente medio del turismo è molto più interessato alla riscoperta dei paesaggi autentici dei borghi dove si vive ancora rispettando il ciclo della vita il ciclo della natura portare le persone che avvengono da diversi luoghi d'Italia del mondo e noi già abbiamo iniziato questo tipo di percorso con la nostra associazione significa farli fermare in borghi come in Postiglione o nei numerosi borghi che si trovano lungo questa strada pensate erano un'associazione loro mi raccontavano che non hanno avuto questa stessa facilità nel mettere insieme tutti i comuni questo perché perché ho riscontrato e questo ci ha dato l'interesse ci ha dato lo stimolo a continuare ho riscontrato un grande interesse da parte delle amministrazioni poi chi più chi meno insomma con alcuni si fa più fatica con alcuni invece riusciamo ad andare avanti molto più velocemente però questo fa capire che comunque noi in questi territori e parliamo di tutta la zona meridionale della Campania le aree interne della Campania perché lì è il grosso dove si concentra la storia di questa antica strada abbiamo un forte senso di appartenenza noi se ci pensate noi siamo molto bravi siamo molto accoglienti siamo molto orgogliosi di dimostrare e di raccontare il nostro territorio questa è un'opportunità ed è importante metterla a frutto non come uno sforzo diciamo isolato perché quello purtroppo non porta a niente ma mettendoci insieme perché solo mettendoci insieme possiamo dare forza a questo racconto questo è un racconto interessante è un racconto molto importante perché unisce storia unisce agricoltura unisce archeologia architettura e adesso potrei parlare per tanto tempo so che il tempo è breve però dietro a questo racconto ci sono tanti tanti fili tante tante strade ecco per questo gioco di parole da seguire la strada reggia delle Calandre passa per Portici a Portici c'è la reggia borbonica di Portici che ospita la facoltà agraria ecco oppure questo perché perché poi la strada attraversa altri territori come la Piana del Sede quindi c'è un legame c'è un legame con la storia e con l'ambito accademico sempre in campo di agricoltura poi c'è qui a pochi passi c'è una testimonianza molto importante invece di quella che è la storia più recente settecentesca borbonica il real casino di Persano che oggi ospita una caserma lì stiamo lavorando anche per portare alla conoscenza dei più questa incredibile anche originale costruzione e siamo riscontrando tanto interesse veramente tanto interesse ripeto l'anno prossimo avremo in programma diverse iniziative a livello di comunicazione e soprattutto in collaborazione con la regione Campania poco prima mi sono allontanato perché ho ricevuto una telefonata da un organo della regione Campania che anche oggi domenica mattina stanno lavorando proprio su questo progetto e ci saranno delle importanti novità soprattutto anche ecco uno dei prossimi obiettivi che sarà di questo lavoro anche quello della segnaletica perché noi vorremmo innanzitutto per il prossimo anno come associazione in collaborazione con le tre regioni coinvolte Campania Basilicata e Calabria e con tutti i comuni vorremmo avviare un programma grosso di comunicazione e anche di segnaletica quindi le principali emergenze architettoniche storiche i principali luoghi quelli più importanti dovremmo segnalarli sto pensando ad esempio alla tabella della duchesta e tutti gli altri disseminati lungo il percorso questa per noi e ci crediamo fermamente ci crediamo con passione come ci crede l'amministrazione comunale di Costiglione crediamo con passione che questa sia la strada giusta per portare diciamo portare alle cronache della cultura dell'interesse questi luoghi perché questi luoghi hanno davvero tantissimo da raccontare e avranno sicuramente la possibilità di essere raccontati nel modo giusto quindi vi ringrazio ancora e spero che sia è sempre bello ascoltare l'affinetto delle relazioni dell'affinetto Luca Sposito perché il progetto strada reggio delle Calabrie è stato promosso dal archioclebo di archioclebo Italia è stato promosso e condivido dal ministero del turismo e dal ministero della cultura quindi questo è un grande progetto che ci consegnerà di consegnerà le aree interne alle nostre aree interne da Reggio Calabria a Castrovilla di poter avere perché già è cominciato Pasquale un percorso turistico di sviluppo del territorio anche autonomo quindi per me in queste condizioni annesse e condesse grazie a chi detto Sposito siamo qui a me Giovanni Maiurano Giovanni è un membro del corpo nazionale del soccorso affino e speriologico della Regione Campania che come vi dicevo prima interviene nelle situazioni di catastrofi di avvità e di emergenza nei salvataggi Giovanni il ruolo del soccorso affino è un ruolo importante essenziale per la Regione Campania questo è il corpo nazionale di soccorso quanto è importante noi siamo a Postiglione Postiglione ha una grande ricchezza che è la montagna la sua montagna che tu ben conosci quanto è importante mettere in sicurezza nel circuito anche turistico perché oggi qui come sempre ci sono gli escursionisti gli appassionati della montagna del trekking e non solo ieri avete fatto anche le attrappicate qui in montagna per il soccorso alpino quanto è importante mettere in sicurezza la montagna creare le condizioni da parte dei comuni in questo caso del parco affinché possa essere fruibile in quindi completa sicurezza e autonomia da parte dei settori grazie io sono Giovanni Giugano sono dirigente del soccorso alpino campano il soccorso alpino nasce in Italia nasce in Italia 70 anni fa quest'anno celebraremo il settantesimo anno era un corpo di volontari che andavano in grotta andavano in montagna e si mettono insieme per aiutare i colleghi che stavano in difficoltà tutto dopo cresce e diventa un corpo oggi è un corpo nazionale che poi si divide su delegazioni regionali noi in Campania siamo in Italia siamo 7500 tra parte volontaria e non volontaria e mentre in Campania siamo pochini iniziamo pochini perché entrare a parte del soccorso alpino non è un gioco è una figura molto importante è una figura tecnologica che deve avere delle discipline deve conoscere bene che cosa vai a fare perché si lavora in ambienti ostili in perdi con mezzi e pochi mezzi in certi casi perché quando si lavora in ambienti ostili non si arriva con mezzi su ruote ci si può arrivare al massimo con un elicottero se il tempo permette altrimenti su zone innevate perdi io ho visto qui a Postiglione che avete io sono di Nusco un paese qua vicino quindi vorrei io quasi andare alle metri avete un gioiello ho visto una montagna bellissima con delle curve di livelle notebili dove se ci vogliamo collegare al turismo voi avete una potenzialità ma da fare figlia a tutti devo dire io sono padre di due figli i miei figli stanno tutti e due fuori studiano ma si deve fare in modo che questi figli devono studiare devono acculturarsi ma tutto quello che imparano lo devono riportare qua lo devono riportare qua e dare qualcosa al proprio territorio che cosa voglio dire mi ricordo a quanto ha detto il sindaco prima che mi complimento che ho visto la sua sensibilità verso la montagna quando faceva accenno alla sentieristica e quant'altro che pure era l'architetto l'architetto esposito quando parlava dei vari sentieri anche della rete per un po' voglio fare un appunto sulla sentieristica la sentieristica non so se un anno dopo sarò d'accordo con me la sentieristica va fatta va affidata a gente competente gente competente che sa mettere le mani ma non farlo del momento in cui dovessero mettere il paletto e fare col pennellino questo lo possono fare tutti ma ci deve essere una buona guida perché la sentieristica a livello ci può dare l'aiuto quando si va a cercare una persona ma già lui non si perde questa persona se ha una buona segnaletica e i segni devono essere convenzionali in Italia e nel mondo per tutti non possiamo fare che ogni associazione va in montagna col pennellino e ci fa un segno assolutamente no cerca il crebapino che ha una segnatura particolare e devono essere usati sempre quelli poi ci si può mandare chiunque la ditta individuale non è un problema l'importante è che vanno seguiti da tecnici esperti in modo che la segnatura viene fatta in modo e deve essere fatta bene se no la gente si perde noi ci ribandiamo tutti i giorni in queste situazioni perché ha perso il sentiero perché specie le nostre montagne che sono hanno una legislazione molto molto alta quindi non hai ovunque visibilità poi abbiamo la costiera maffitana la costiera maffitana uno spettacolo e là mi collego subito al problema vero che il problema è quello che la gente va in montagna sta al mare e si trova sul sentiero degli dei con il sandaletto con l'intradito e si imbatte si fa il sentiero e poi si rompe la tibia e il perle che sono interventi che facciamo di routine siamo a 130 interventi in un anno fra poco più di un anno vuol dire ogni due giorni interveniamo soprattutto nel ultimo ma è bellissimo che questa gente gira tra le nostre montagne però impariamoli a girare in modo e li dobbiamo acculturare anche in questo senso altrimenti non andremo di nessuna parte la cosa importante di un escursionista che cosa deve fare qualora esce deve studiare il giorno prima il percorso da fare deve imparare a leggere una cartina in modo da sapere e qua ritorniamo alla sentieristica deve sapere il sentiero per bene quello che vuole fare poi si ci può essere il problema ma se lui ti sa aiutare dall'altra parte del telefono qualora il telefono compre allora io vado a prendere con una facilità altrimenti ci sono seri problemi per andare a recuperare una persona noi a Cassarendino come soccorso alpino abbiamo aperto da poco una centrale operativa GeoRes che si chiama che è centrale operativa del centro sud dove 24 ore su 24 c'è un tecnico di centrale che sta lì a prendere la chiamata di intervento però bisogna che chi vuole andare in montagna scarichi l'applicazione GeoRes manda il messaggino quando mi arriva il messaggino l'operatore che sta in centrale la trasmetta alla squadra di terra o all'elicottero di turno e quello c'è anche qua con le giri punto gps c'è di là sopra e magari i tempi si stringono perché noi non lavoriamo con l'ambulanza siamo un servizio sanitario ci venga a precisare forse l'unico servizio sanitario che può fare servizio in ambiente ostile però se non ci aiutano noi in magia non riusciamo a fare quindi loro devono scaricare tutti questa applicazione devono avere la possibilità di metterti in condizioni e di arrivarci subito perché i nostri interventi sono sempre fatti contro rispetto va bene io non mi voglio a noi però vorrei dire un'ultima cosa quando si esce zaino attrezzato un fischietto pesato zaino salva la vita sembro che dico sciocchezze ma vi assicuro che l'ho visto con i miei occhi una persona con un peccone rotto dentro un pallone aveva il fischietto d'arbitro vicino allo zainetto e non aveva più voce ha fischiato col fischietto l'abbiamo sentito il fischietto l'accendino altra sciocchezza non puoi fare a meno accendi un pocherello qualcuno ti vedrà un elicottero ti vede vestiamoci con un abbigliamento adeguato sia tecnico che ci protegge dall'endembele un nemico importante della montagna è il tipo del mio siamo andati a prendere qua Angelo Mattia Rocco il testimone gente che è candidato proprio a me sulla neve con due vetri di deve il primo di marzo di parecchi anni fa erano da di ipotermia lui un infermiere di animazione sapeva bene che cosa gli stava succedendo l'altro un bel ragazzo bello grosso erano in fin di vita li abbiamo salvati noi quando succede purtroppo andiamo a prendere molte volte andiamo a prendere gente deceduta però quando riesci a prendere una persona vive della salvi insomma il discorso comunque io finisco qui se non il tempo potrei parlare per ora però non parla degli altri vi faccio gli auguri di buonanotte a tutti e prudenza grazie 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 domani il concorso affino stereologico della regione di campagna corpo nazionale dei soccorritori è arrivato con noi l'onorevole Caraviello Alessandro Caraviello intanto io chiedo scusa il relatore si chiederò brevità ma in modo tale da poter fare intervenire l'onorevole Caraviello concludere questo incontro e poi regarci insieme a visitare il centro storico Angelo Mattia Rocco tour operator del double ranking Angelo Mattia Rocco è insieme ad una squadra di professionisti salernitati tour operator il fondatore di una esperienza ma anche di un progetto importante di promozione turistica e escursionistica delle attività all'aperto open outdoor ecco che cos'è open si chiedo ovviamente di rimanere nei 4 minuti se non è un problema canonico non me ne vogliate Angelo e anche perché anche lo do poter essere con noi quindi sarà a vostra disposizione con tutte quante le informazioni domande e quant'altro che avete grazie 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 madra Teresa io sarò brevissimo e parto da quello che ha si portato in questo convegno ci sono state le parole chiare che ha rebuto importantissime abbiamo parlato di turismo abbiamo parlato di spopolamento abbiamo parlato di giovani ma il sindaco è stato un riferimento secondo me fondamentale abbiamo parlato di passione il nostro come società di servizi turistici come Curo Peretosa è proprio percorso nato da una passione circa ventun'anni fa ventun'anni fa le dati 15 anni insieme all'attuale sociale abbiamo ipotizzato quando prima c'erano operatori di valore come lì perché è presente qui in zona che il turismo è istruzionistico il turismo legato alle traite e il turismo di montagna potesse essere quella valvola di sfogo per noi giovani del territorio per fare i morti non abbandonare queste zone ma rimanere qui e lavorare di quello che offriva la nostra terra avevamo questo sogno questa idea di poter vedere non tanto la zona costiera quella che era già conosciutissima da tanti turisti ma la zona interna la zona soprattutto quella della montagna dell'alta montagna di cui parlava Giovanni Majorani come un punto di riferimento un punto di partenza un punto sul quale costruire nel 2007 con la nascita di una piccola associazione prima di Bolo e poi di diventare una società tutti gli effetti partecipavamo ad una fiera che si chiedeva Pallo della Lucania che era la borsa per i territori rurali europei lì ci incontrammo con Angelo Coda che è il titolare da Icon Advertising un'altra società con la quale collaboriamo e abbiamo realizzato appunto Open Outdoor Experience e insieme pian piano portando mette insieme le forze e capendo che il territorio le zone interne e il turismo outdoor potrebbero rappresentare una sorta di sviluppo per il nostro territorio decidiamo di seguire un percorso lungo perché dal 2007 a 2023 possiamo guardare di un percorso lungo che fosse fatto a tappe delle tappe fatte di esperienza diretta sul territorio di accompagnamento di turisti quindi di escursionisti sulle varie in zona di montagna appunto abbiamo parlato di sentieri abbiamo parlato di indicazioni quindi parliamo anche di attività escursionistica che è una figura che spesso viene dimenticata nel corso degli anni prendendo come riferimento il caso studio la troviamo del lago Laceo dove abbiamo lavorato tantissimo quindi abbiamo dati alla mano dove addirittura siamo riusciti a riconvertire una località scistica con la chiusura delle miglie in una località a vocazione prettamente escursionistica quindi abbiamo dimostrato che in sette anni di chiusura impianti oltre allo sciatore c'era altro da fare ci siamo resi conti che era il momento ci siamo resi conti che era il momento necessario per poter fare il salto di qualità e quindi cosa abbiamo deciso di fare? abbiamo deciso di prendere quell'esperienza passata della borsa verde dei territori rurali modificarla a seconda delle esigenze attuali realizzando Open Autoday Experience la prima fiera dedicata all'autoday in generale non solo escursionismo ma anche attività mare bicicletta vena kayak tecnico e quant'altro creare un contenitore che fosse il primo del centro sud e fosse diverso da quelle che sono le altre fiere a livello nazionale nel quale ci fossero quattro areali uniti ossia territori ed editi che rappresentano quei territori associazioni professionisti che lavorano in quel territorio una parte di tre quindi attrezzature tecniche e poi un Open Village per le dimostrazioni pratiche dove anche il soccorso albino e speriologico della campagna è stato partecipe abbiamo avuto come prima edizione 10.000 visitatori dimostrando che anche in tre giornate di mal tempo assolutamente mal tempo non solo freddo che oggi è di lungo universale l'esperimento è riuscito c'è stato un grosso interesse da parte di espositori la regione campagna c'è stata vicino con l'assessore Casucci ma mi permette di dire che qui abbiamo uno degli attori forse chi ci ha accreditato per prima Masquale Sorrentino consigliere delegato al turismo che quando si parlava di opera un anno e otto mili prima della realizzazione della fiera c'era il prima di nello noi battagliando per questo questo grande evento è stato grande successo possiamo dirlo dopo perché all'inizio c'era una grossa domanda che potesse essere ovviamente vista ancora con lontananza da parte del pubblico abbiamo avuto 150 espositori e stiamo lavorando per la seconda edizione concludo dicendo una cosa questa fiera è servita anche per creare una sinergia di imprenditori e istituzioni è notizia di due giorni fa che è stato presentato in Regione Campania grazie al consigliere e amico Andrea Corpe l'emendamento regionale alla legge del turismo sul quale finalmente si menziona la figura della nuova ambientale escursionistica quindi finora si parlava di guida turistica che è ovviamente una figura necessaria della regione ed è abilitata dalla regione campania ma si rimaneva sempre nel limbo su questa figura di noi accompagnatori professionisti della montagna finalmente grazie anche alla fiera perché le associazioni di categoria hanno insistito nell'incontrare i piedi e è stata presentata la problematica probabilmente a breve potremmo dire di essere stati riconosciuti anche dalla nostra regione vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro grazie a tutti i giorni grazie a tutti i giorni grazie a tutti i giorni che hai messo insieme che stai portando in giro per la provincia di Salerno passando lì per Postiglione ma anche promotore di iniziative e condivisore di iniziative come quella di Open iniziative come quella di Postiglione e tantissime altre ecco un catalizzatore la provincia diventa un catalizzatore di una cucina di idee di programmi ma soprattutto di progetti che vengono attuali per il concreto innanzitutto grazie grazie a me il compito di tirare la volata all'onorevole Caramillo che ci ha raggiunto che saluto e di cercare di fare lo solo per il dono della sintesi senza proprio violentare i contenuti perché se uno fa una cosa troppo veloce magari la fa in modo sbagliato ho di fronte a me lo sguardo amorevole di Carmine Cennamo da padre di famiglia e padre di una comunità e quello nordico di Peter che sta di fronte a me e però prima di parlare della buona politica che si è convocata qui a Postiglione questo è un merito di chi questa comunità la amministra insieme a Luigi e agli altri colleghi vi invito a considerare come la grande storia del Novecento si fermi qui a Postiglione voi avete questo sito ospita la suite del decalogo della democrazia di José Garcia Ortega che è uno dei massimi esponenti dell'arte del Novecento allievo e amico di Picasso che ha utilizzato l'arte come forma di denuncia sociale per quello che non andava bene ed è un monito per la politica l'arte è politica è propaganda in questo caso è educazione della classe dirigente perché Ortega nel 1976 nella tavola numero 7 diceva vai a votare il tuo partito non il mio che si sapeva bene quale fosse e richiamava il grave allarmismo che sarebbe poi configurato 50 anni dopo del disinteresse del fatto che il primo partito poi sarebbe stato quello del non voto quello che a me non mi interessa non mi riguarda invece ci riguarda e come? ci riguarda perché a questo tavolo oltre alla politica c'è l'impresa c'è l'associazionismo ci sono gli amici delle associazioni dell'ecoturismo del trekking per questo questo evento è importante e io mi sono accampato a questi giorni tre giorni e lo rivendico perché in parte perché il freddo è terapeuta così lo dico da operatori della riabilitazione il freddo è un antinfiammatore naturale quindi ce ne andiamo da qui tutti quanti più longevi e io provengo anche da suoni caldi e conosco la differenza però non voglio venire meno al tema che sposo e che mi ritrova intravedo dall'amico qui presente agricoltura, turismo e politica per il mezzogiorno allora anzitutto dobbiamo uscire da un equivoco che per anni ci ha disorientato il turismo non è un volano il turismo è un sistema che deve funzionare perché deve connettere quattro elementi domanda offerta prodotto e struttura si parla di turismo quando puoi permanere in un luogo per più tempo quindi l'obiettivo oggi è nelle strutture nelle aree interne aumentare i posti vendita primo punto se non ci mettiamo questo bene in testa parleremo di animazione territoriale di presenze di rumore ma non di turismo turismo è far rimanere le persone per più tempo nello stesso posto in che modo? amando conoscendo per bene quello che il territorio offre i cui primi assessori sono chi lo abita non chi fa momentaneamente l'assessore al turismo e i comuni non fanno strategia turistica quella la fanno gli operatori gli operatori commerciali che devono essere sostenuti dai comuni quando si chiude questo cerchio è già il primo passo perché questa la provincia di Sarema è la provincia ma questo è un problema di tutte le pubbliche amministrazioni si confondono non sempre turismo e spettacolo sono due cose diverse se non usciamo da questo equivoco rimaniamo sempre a parlare a parlarci tra di noi e a non capire lo diceva bene lui quando parla di passione di produzione di aderenza di numeri il turismo parte dai numeri la ricoltura è la connessione perfetta con la vocazione del turismo e parte da un'esperienza di amministratore locale di San Giovanni Appilo vice sindaco da otto anni noi abbiamo avuto come tanti comuni i fondi per le aree marginali in molti comuni i fondi per le aree marginali sono stati spesi in maniera diversa hanno pensato di dare un senso ai commercianti dare il contributo con l'altro noi abbiamo preso tutto il contributo e l'abbiamo buttato in un unico intervento avevamo un vecchio macello diventerà quello che bene diceva Carmine Scendaco pochi minuti fa il caseificio comunale di San Giovanni Appilo che raccoglierà tutto il latte prodotto dagli allevatori di quel territorio che non è il territorio di mozzarella è il territorio di cacio e ricotta capra cilentana quindi tutti i marchi ci sono e sarà principalmente il luogo dove produrre alimenti per la ristorazione di Scario di San Giovanni Appilo e Bosco e quindi dieta mediterranea che ha tre elementi che tutti dimentitano pensano che tutti sia un menù uno stile lo è un menù ma è uno stile ma la dieta mediterranea è principalmente produzione autoconsumo e convivialità perché fast food è un modello che non appartiene al Cile noi siamo per le cose slow lente la dieta lenta il turismo lento il camminare lento l'incere lento ti fa vivere più a lungo la dieta mediterranea parte da questo mangiare quello che ti produce altrimenti se pensiamo che sia un primo un secondo e un contorno ma il primo è fatto di una pasta che arriva fatta con grano canadese di che di la dieta mediterranea parliamo questi sono diciamo gli equivoci da cui dobbiamo uscire ma lo possiamo fare lo possiamo fare come ha detto Cengamo mettendo al tavolo tutti gli attori i protagonisti ciascuno con le proprie provenienze ciascuno con le proprie storie e se andiamo sul terreno impervio impervio del turismo rurale della sentieristica io penso lo dico senza timore di essere smetti che il luogo naturale per ragionare di turismo escursionistico di manutenzione sia il parco il parco del Ciletto deve fare tre cose non 300.000 partendo invece dalla manutenzione dei sentieri le aree medine protette e deve mettere insieme i comuni poi dentro queste diciamo questo trino c'è di tutto ma non possiamo fare tutti la stessa cosa io da consigliere provinciale delegata al turismo e vengo dal tema della legge delirio io le chiamo legge delirio delirio è quello che è la scritta delirio sono i risultati io e te lo dice bene Angelo quando un anno e mezzo fa abbiamo parlato di OPE io ho detto noi andiamo in regione ci devono finanziare questa cosa perché è troppo importante fatela noi abbiamo fatto azione su 158 comuni senza manovrare un euro abbiamo fatto buona politica mettendo insieme creando relazioni io non ho neanche il dirigente l'area il turismo non c'è nelle competenze della provincia ma ti pare normale la provincia di Salerno costiere 158 comuni siti unesco non ha il turismo com'è e io l'ho fatto a mani nude a mani nude però anche qui quando mi vengono a chiedere le cose molto spesso ci si riduce a niente il cantante l'evento cioè è una malattia cronica quello che uno deve fare è quello che fa il comune a fianco senza pensare che il comune a fianco non è un competo è un amico con cui bisogna mettersi insieme chiudo perché abbiamo al tavolo chi fa parte dei processi normativi dell'Italia e quindi della Repubblica Italiana perché la legge del Rio che ha distrutto e ha depotenziato le risorse alle province non le funzioni perché le funzioni sono le stesse c'è una provincia deve manutenere 2500 km di strada sistemare 258 scuole ma pensare a 158 comuni però senza i soldi dell'anno prima quando pare normale andare a fare la spesa a un supermercato senza avere il portafoglio come ti ritieni vuoto e ti trovi le strade rotte e ti trovi tutti i problemi tutti sul tavolo è un problema del legislatore la parte politica da cui io provengo ha fatto questo errore è un errore e riconosce come errore è un grande una grande opportunità per tutti gli esseri umani ora però tocca a quelli che ci sono adesso che non possono sempre urlare ma lo devono fare e noi lo dobbiamo votare la legge di riforma delle province lo dico caro onorevole va utilizzata e va rimessa a camminare perché quello è stato un delitto un delitto che chi l'ha scritto ha sbagliato immaginando che potesse passare così con un colpo di spugna le province che sono l'ente più prossimo ai cittadini io ripeterei un po' le regioni se proprio ne dobbiamo dire tutto alle province me le terrei strette per questa ragione io c'ho trovato in questo momento il microfono a lui senza però non ringraziare lui non mi conosce però questi amici del soccorso alpino qualche anno fa il 2019 il mio comune noi siamo stati per 20 giorni Sky CNN c'è parlato in mondo intero del mio comune purtroppo è una cosa non bella perché un escursionista Simone Gauthier si è perso nei sentieri peraltro fu un'operazione purtroppo per lui impavida e molto inopportuna perché non era un sentiero indicato si era avviato in una cosa in cui non c'era la possibilità di uscirne perché va bene però il mese di agosto grazie al soccorso alpino siamo riusciti poi purtroppo a comunque recuperare il corpo di questo ragazzo francese che è morto velocemente dopo pochi minuti perché si è deciso insomma un'arteria e quindi è diventato veramente difficile per lui risalire però quanto è importante quello che ha detto mi ricordo il cognome Bajorano cioè da un lato il dovere dei sindaci e dei clienti locali di mantenere e dare un senso pratico ma anche chi si avventura deve avere come deve possedere le coniezioni minime di fase quindi io approfitto di questa platea per ringraziare per tributare un doveroso riconoscimento al vostro lavoro che nel 21% sono dei volontari non me lo posso dimenticare il 20 di agosto quando il tuo collega mi disse alle 6 di mattina gli andavamo portare i cornetti il caffè perché diventò un accampamento quel comune per 20 giorni lui mi disse Pasquale oggi vi troviamo in ragazza abbiamo completato chiuso la ricognizione l'unico punto dove può stare sta là alle 20.01 mi arriva il messaggio alle 20.02 Sky dà la notizia come l'ha saputo Sky in 60 secondi è un mistero buono per me però vi voglio ringraziare pubblicamente perché avete dato dignità a una storia purtroppo finita parte vi voglio ringraziare Maria Teresa Maria Teresa perché oltre a essere la coordinatrice di quella che testa una tela sottile che mette insieme gente che proviene da più punti ma questa è un grande una grande missione che ti sei intestata chiaramente con mandato da parte di Carmine che non ha badato agli interessi di una parte politica quale che sia ha detto qua siamo tutti responsabili perché quando ci tocca urlare gridare dare la colpa indicare siamo tutti molto precisi dopodiché è sempre colpa di qualcun altro per questo bene ha fatto a fare questa convocazione che ve ne lo dico sinceramente anche andando incontro quando succedono dei piccoli qui progono ma quelli li dobbiamo mettere nel conto per questo veramente complimenti e buon lavoro a tutti grazie Mascuale il suo benvenuto ci ha raggiunto e chiuderà questo nostro meraviglioso incontro l'onorevole Alessandro Caramierlo deputato della Repubblica Italiana membro della Commissione Agricoltura e presidente dell'intergruppo parlamentare sul posul dare esageri e i suoi minori benvenuto al consiglio l'onorevole buongiorno a tutti ringrazio gli astanti i convenuti ringrazio il sindaco tutti i delatori anzi tutti mi devo chiedere scusa sono arrivato in ritardo però c'è una giustificazione proprio quando parliamo di politiche del mezzogiorno noi siamo venuti con una macchina elettrica su una Napoli Salerno non c'era una colondina per ricaricare l'auto siamo dovuti uscire a Battipaglia e praticamente le colonnine erano in mantenzione poi siamo usciti a Colturi ci siamo buttati in un hotel per cercare di caricare l'auto alla fine grazie al vigile che ci è venuto a prendere altrimenti stavamo ancora lì cercando di ricaricare l'automobile e questo ci fa pensare come ancora il sud rispetto al nord sia molto indietro io sono stato consigliere comunale nella mia città quindi la tua io ne la capisco e anche mia ho vissuto a Torino per tanti anni arrivato a un certo punto sono voluto scendere nuovamente al sud quando ero a Torino parlavo volutamente napoletano perché mi aspettavo che qualcuno mi chiamasse a Torino così da poter risciorinare tutta la nostra storia da Ruggeri Normanno fino a Francesco II avendo poi questo castello meraviglioso del quale mi diceva anche il vigile molto appassionato che mi raccontava la storia quindi un conoscitore del territorio e questo ci fa onore mi ha spiegato in un quarto d'ora tutto il territorio di Positione e l'ho visto veramente legato alla propria terra e noi meridionali dobbiamo fare questo anzitutto dobbiamo essere legati alla nostra terra e pubblicizzarla prima nella peninsola ma anche per il mondo intero perché abbiamo una vittoria millenaria che va tutelata e sostenuta questa diciamo era un po' la premessa per giustificare il fatto che sono arrivato tardi perché sono partito da Portici alle 10-10 e sono rimasto bloccato fin d'ora vi porto un'esperienza io ho creato questo intergruppo parlamentare che si chiama sviluppo sud aree fragili quindi aree interne e isole minori che ha l'obiettivo di rilanciare quindi il sud mettendo in campo una politica per il mezzogiorno e lo sto facendo insieme a 53 parlamentari di tutte le forze politiche quindi non solo della mia forza politica che è il Movimento 5 Stelle ma molti della legge di Fratelli d'Italia di Forza Italia e gli stiamo lavorando sinergicamente caso strano sinergicamente per rilanciare anche le isole minori e le aree interne come queste ma perché lo stiamo facendo? perché siamo prima meridionali e poi parlamentari della Repubblica allora se ci spogliamo dal vestito martitico quindi da quel simbolo di martitico e ragioniamo da meridionali forse riusciamo a portare a casa qualche risultato questo intergruppo è supportato da un comitato tecnico-scientifico ci sono anche amministratori locali ci sono una serie di sindaci consiglieri regionali e questo comitato tecnico-scientifico c'è anche Confindustria c'è la Presidente Nazionale di Mediastituzione tutta una serie di ordini datoriati quindi la politica che ascolta la società civile e viceversa e abbiamo prodotto delle proposte di legge la proposta di legge sulla valorizzazione delle isole minori e per dare continuità all'articolo 119 della Costituzione che serve a limitare o a eliminare gli svantaggi di chi vive su un'isola rispetto a chi vive sulla terraferma e su questo vi devo dire che è una parlamentare della Lega che ha una casa tra l'altro a Leone e a Libari e si sta battendo molto quindi insieme a noi c'è lei e le da lei che sono minoranza per dire vogliamo lavorare insieme istituendo un osservatorio per il trasporto per le isole minori facciamolo insieme facciamolo come intergruppo diamo voce ai 53 parlamentari e quindi sotto quel simbolo adesso di sviluppo sotto di questo intergruppo stiamo lavorando insieme è una novità una cosa che potrebbe funzionare oltre a questa proposta di legge abbiamo presentato 19 vendamenti in legge di bilancio 19 vendamenti la settimana prossima sarà discussa al Senato perché un anno viene discussa al Senato un anno alla Camera dei Deputati chiaramente la maggioranza parlamentare è stata bloccata dalla maggioranza di governo perché come avete potuto leggere è praticamente una manovra blindata quindi non possiamo presentare vendamenti però i parlamentari della maggioranza che compongono l'intergruppo si sono ripromessi insieme a tutti quanti almeno nel mille proroghe affronteremo quest'altro provvedimento almeno di far approvare qualche atto o proposta di legge oppure vendamento andiamo avanti con le interrogazioni con gli ordini del giorno e questo diciamo dicevo è una novità per quanto riguarda il Sud l'equità territoriale è un'altra proposta di legge ogni anno sulla legge di bilancio il 34% di quei fondi di legge di bilancio dovrebbero andare al Sud perché siamo il 34% della popolazione quando il Presidente Goethe riuscì a portare 209 miliardi una fetta di 800 miliardi dei fondi del PNR riuscì perché esiste il Sud che è l'area più depressa d'Europa su tre principi cioè il prodotto interno l'olto il tasso di disoccupazione e quindi il 34% della popolazione di questi fondi del PNR che dovrebbero essere spesi entro il 2020 che dovrebbero arrivare al Sud il 40% almeno l'ultimo Ministro del Sud che è stata la Caffagna definì questa cifra cioè il 34% dovrebbero andare al Sud troppo il nuovo governo ha spostato una serie di fondi esistaci lo sanno bene alcuni progetti importanti sono stati dei località di nuovamente al nord ma al di là dei fondi del PNR noi dobbiamo avere la capacità e gli amministratori locali del Sud lo sanno fare la capacità di poter intercettare tutti i miliardi europei che arrivano ogni anno anche dall'Europa faccio un esempio nel settemnato 2014-2020 c'era un progetto che si chiamava Horizon 22 e c'erano un'idea di euro messa a disposizione per i comuni ci sono dei comuni virtuosi che hanno la capacità di intercettare questi fondi e poi ci sono dei comuni in estrema difficoltà che non hanno nemmeno più l'ufficio tecnico o al massimo un unico dirigente che non riescono a presentare i progetti e quindi la maggior parte di questi fondi ritornano all'Europa quindi non è vero che non ci sono fondi ci sono due ordini di problemi uno è perché non abbiamo qualcuno non ha la capacità di sapere intercettare altri perché gli uffici declici dei comuni sono in estrema difficoltà parlando invece in ambito di agricoltura perché io sono il capogruppo della mia forza politica di agricoltura come è un pezzato di voler sviluppare anche il sud fermo le state che dal primo gennaio noi avremo una ZES unica quindi una zona economica speciale per tutto il sud Italia e non sapremo se questa funzionerà perché poi sarà istituita una cabina di regia a Roma che deciderà quali progetti finanziare oppure no ma io quando sto a Roma spesso dici moltissimi della multinazionale e nove volte su dieci queste multinazionali hanno stabilimenti a nord è venuta la Mondelizia questa multinazionale che produce biscotti oreo filadelfia cipster rizzo e mi dice onorevole noi vogliamo presentarvi la nostra riempita prima cosa che faccio noi avete lo stabilimento noi ne abbiamo due in Piemonte perché noi avremo bisogno che da anno in Puglia che è il grannaio d'Italia incominciamo ad aprire adesso uno stabilimento in Puglia zucchi olio e dove avete lo stabilimento un unico stabilimento a Cremona cioè noi siamo sempre in Puglia più livelli e praticamente c'è bisogno di avere un solo stabilimento in Puglia a Cremona non va bene l'ultima viene venuta a trovare una mesclare dieci stabilimenti io li appengo nove stabilimenti a nord un unico a Benevento a Buitoni che fa la pizza e quindi questo per dire almeno la parlamentare meridionale ogni volta che vengono da me io dico no dobbiamo aprire qualche stabilimento ma perché perché lo diceva anche il collegamento cioè noi dobbiamo fare perché i nostri giovani non continuano a venire però dobbiamo creare quelle condizioni politiche quindi la politica ha il diritto e il dovere che è il capo tutta una fede di azione affinché i nostri giovani lentino nelle nostre zone per vivere anche di un turismo balneare di un turismo culturale di un turismo religioso di un turismo lento di questi porti fantasi un turismo escursionistico come si diceva prima e abbiamo tutte le possibilità per mettere in campo una politica che possa valorizzare di un turismo in Italia allora di nuovo facciamo noi se non lo fanno gli amministratori locali il vigile mi ha parlato per 15 minuti 10 minuti di sindaco quindi si ha fatto un endorsement al vigile veramente ha fatto grandissimi complimenti dicendo che lei ha Milano e poi è deciso giù perché ama la propria terra è la stessa cosa che ho fatto io stato a Torino e poi sono ritornato quindi veramente molto molto bello quello che mi hanno ascoltato perché abbiamo molta esperienza al nord per poi portarla sui nostri territori per valorizzare i nostri territori e questo lo dobbiamo fare tutti e qualsiasi collegando la filiera istituzionale quindi gli amministratori locali che sono i primi front office dei cittadini chiaramente questo governo non voglio fare una critica politica ma voglio dire ma anche con altri sindaci distruggendo alcuni provvedimenti come per esempio del cittadinanza mi diceva il sindaco di San Sebastiano a Vesuvio che quando c'era il re di cittadinanza praticamente non aveva più nessuno fuori la porta nuovamente tolto a questa misura che mi dava l'abilità a fuori la porta non ha tolto un sacco di cittadini io ho un sacerdote sicuramente i pacchi alimentari andranno a gogo e quanti chiederanno nuovamente di essere pagata una bolletta e altre cose perché l'abbiamo vissuto perché l'ho vissuto io quando ero consigliere comunale per l'anno della pandemia e che se non ci fosse stato il re di cittadinanza in quel momento in quel momento molte mamme non potevano comprare nemmeno tanto in colpa dei propri figli e l'ho diseguito sulla mia pelle perché io da consigliere comunale da amministratore locale potevo scendere e quindi potevo portare i pacchi a grittare perché tutti i quali stavano in casa l'ultima proposta e vado a concludere l'ultima proposta che ho presentato ad Ercolano a Villa Campoletto una proposta per ripopolare le aree interne nel caso in cui malauratamente il Vesuvio dovesse eruttare io che provengo da vortici praticamente dovrei andare in Piemonte un'altra volta in Piemonte però in un luogo imprecisato in Piemonte fino a 2014 io forse sempre dovevo andare a Pellaria in Emilia Romagna in Emilia Romagna avevano identificato anche una città mentre oggi in Piemonte visto che ogni anno abbiamo perso quasi 2 milioni di cittadini meridionali perché non andare a ripopolare le aree interne e con un progetto di un ingegnere Enzo Coronato portato anche all'attenzione della regione Campania un progetto che ormai ha 15 anni ha identificato già 100 80 mila alloggi disponibili centiti quindi non tende da campo così da portare i cittadini dell'area vesuviana quindi 600 mila cittadini nelle aree interne della regione Campania in modo da ripopolare quando ero consigliere comunale in Commissione Ambiente noi affrontammo la problematica e praticamente i porticesi dicevano di portarli nel Cilento invece di portarli in Piemonte è un progetto che poi condividerò anche con i sindaci della zona perché dovrà essere fatto un genellaggio in 2024 per me sarà impiegato anche per fare questo tipo di progetto e portarlo avanti per cercare di far cambiare il piano dell'avvazione della protezione civile e da un'emergenza farla diventare un'opportunità io vado a concluderci credo di avervi detto quasi questo è un lavoro che dobbiamo fare con la diceva Maria Teresa che il sindaco chiede il riconoscimento un esco della grotta di Santa Maria noi ci possiamo provare sicuramente su una vostra disposizione quello che dobbiamo fare è che la scusa della interruzione per fare un incontro visto che lei fa parte di una commissione dove si dà voce al territorio ai piccoli porti come il nostro quindi dobbiamo fare una riunione con i sindaci del territorio in modo che forse questa commissione di contesto non mi vergogno che deve essere conosciuta e deve essere valorizzata per quello che è dove può portarci a noi in quelle realtà quindi io vorrei strappare un impegno per quanto riguarda la grotta di Santeria perché è un patrimonio dell'unesto perché è qualcosa che serve non a quotidiani ma a tutti perché io ho questa visione della crescita del territorio e poi per quanto riguarda un incontro con i miei sindaci del compensorio perché tutti quanti comprendiamo di stare insieme e di fare progetti utici rispetto a quello che lei propone in modo che le nostre realtà possono essere ascoltate sentite visitate e poi diventare realtà di sviluppo dell'intero territorio quindi ve la ringrazio perché è anche il mio obiettivo ripeto l'intero gruppo parlamentare è supportato da un comitato tecnico-civico già abbiamo organizzato quattro eventi il primo evento il 24 luglio alla Camera dei Deputati con uno alla fiera dell'Evante a Bari insieme al presente della regione Puglia Michele Emiliano con uno all'interno della reggia di Portici e un'altra più la campulina del Colano della fondazione intervile mesuliana possiamo organizzare un evento anche in zona invitando tutti gli altri sindaci e insieme possiamo scrivere coinvolgendo anche i parlamentari di questa maggioranza e chiaramente coinvolgendo anche la regione Campania della legge di Portici e anche l'assessore Felice Datucci quindi chiaramente regione e Parlamento devono lavorare stiegicamente abbiamo una promessa dopo le costitane di Natalitici se è chiaro organizziamo un evento anche in questa location splendida invitando i giudici invitando poi i legislativi in modo da scrivere insieme una proposta di legge che punti al bene comune e non agli interessi personali perché sentivo parlare anche della legge regionale sul turismo che l'ultima parte è stata a Caldoro nel 2014 che è stata approvata qualche settimana fa la legge del turismo nazionale dalla Sant'Anche e io ho osteggiato quella legge perché portai anche un ene che non è mai stato bocciato sull'enogastronomia parlando di turismo nazionale nazionale chiaramente c'è un problema io ho le guide turistiche all'esterno del parco archeologico del Colano sul piede di guerra sono circa 16 mila guide turistiche d'Italia perché hanno accorpato la guida turistica alla guida didattica e quindi se prima per fare una visita guidata utilizzare anche la guida turistica riconosciuta dalla regione da Pagni poi al discarco del Testerino oggi accorpando guida didattica e la guida turistica praticamente il tuo operetto di organizzare qui e già questa macchina inviare un messaggio a Felice Caduce l'assessore del giornale di turismo che lavoriamo insieme su questa cosa perché la legge ha creato un problema serio alla categoria Francesco Sicano è il direttore del parco archeologico di Acquano perché ha vinto Coppoculture le visite guidate ma la possibilità di fare anche le visite turistiche stanno già creando una postazione per chi sta a parte di Coppoculture che potrà fare anche la visita guidata non solo la didattica e sta distruggendo un lavoro riconosciuto dalla regione Campania e quindi questo tipo di lavoro dobbiamo farlo insieme con la regione e io sono a vostra completa disposizione perché mi sembra prima medionale sto girando molto i territori girono tutto il 2024 tutte le regioni di Sud Italia quindi il Morisse la Puglia la Calabria la Basilicata perché mancano le infrastrutture ancora oggi mancano le infrastrutture oggi da Napoli a Roma grazie alla stazione di Alcavola su Diego 55 minuti ma se devo andare a mare alla Fiera di Levante se non ci vado con l'auto praticamente ci ritiego tre ore con il treno ci ritiego cinque ore speriamo che entro il 2026 perché questo non sono solo un piede e la carta finirà e riusciremo ad unire quel pezzo io non so che lo vado a dire rispetto a quello che dice anche il mio partito politico contro Ponte sullo stretto no io voglio che si unisca di dare anche per il discorso di insularità come dicevo però non è possibile che sia una cattedrale in questo senso e per fare la russa trama ci vogliono 15 ore in tre allora questo deve essere contestuale unire l'Italia ma le infrastrutture interne devono essere continuative e allora ci deve essere la capacità come dicevo prima degli amministratori locali in ogni comune io sono stato in un comune lo posso dire ci vorrebbe un ufficio di euro di euro progettazione per avvicinare i suoi fondi perché poi scrivere un progetto europeo non è semplice e poter assingere a quei miliardi per creare le infrastrutture al sud se non lo facciamo tutti quanti insieme prima le nazionali allora i nostri giovani continueranno ad emigrare e ci sarà una desertificazione territoriale e perderemo tutte le eccellenze territoriali e non ce lo possiamo più permetterle nel 2023 i nostri figli i nostri rivol i nostri giovani devono vivere questo tento devono poter vivere il sud Italia grazie 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 il sud Italia è un impegno ora da confine direttamente il comune di Postiglione sindaco sei riuscito a fare tre giorni praticamente quello che in altri comuni farebbero i miei giorni grazie sindaco cardine centavo creatore di Postiglione di Postiglione grazie tutti 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 grazie grazie grazie